Ciao a tutti e ben ritrovati qui sul canale Dama Colleziona. Oggi vi porto il video acquisti Blu-ray barra 4k del mese di marzo 2024. Non ho comprato tantissime cose perché come vi ho detto già il precedente mese sto recuperando molti titoli Blu-ray che mi mancano, edizioni Namarai per lo più fuori catalogo e quindi sto concentrando le mie risorse finanziarie e il mio tempo principalmente per recuperare alcune edizioni Blu-ray che mi mancano. Finalmente mi sono deciso a compiere questo passo quindi sto mettendo un pochino da parte le ultime novità, le nuovissime uscite per appunto concentrare le mie risorse finanziarie per dedicarmi al recupero di alcuni titoli Blu-ray che mi mancano e che ho accantonato fino a questo momento. Cioè nonostante sono riuscito comunque a comprare delle nuovissime novità quindi c'è roba fresca, nuova. Iniziamo da subito da un film che mi è piaciuto tantissimo un prequel di un film cult che è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato questo film che si intitola Wonka si rifà direttamente al film originale con Jen Wilde il film si chiama Wonka edito dalla Warner Bros che ha proposto il lungometraggio in tre edizioni on video, steelbook, 4K oltre HD più Blu-ray. A me il film è piaciuto molto quindi alla fine ho comprato tutte e tre le edizioni steelbook ovviamente ne ho aperta solo una, questa qui che secondo me è quella più bella con l'artwork più spettacolare e affascinante ma da buon collezionista alla fine ho comprato tutte e tre le edizioni steelbook film davvero molto carino ragazzi mi è piaciuto tantissimo, ci sono delle canzoni orecchiabili fin godibilissimo per tutta la famiglia davvero ottimi gli attori colorato, intelligente vecchia scuola in sostanza come resa, come regia davvero di puro intrattenimento quindi mi sento di consigliarvelo e come vi ho detto da buon collezionista e amanti di edizioni steelbook le ho prese tutte e tre, tutte e tre gli artwork questa è quella più particolare a livello di artwork perché ha degli elementi in rilievo qui i dolcetti, i cioccolatini di Willy Wonka sono in rilievo quindi a livello di particolarità questa qui è la steelbook con gli artwork con degli elementi in rilievo quindi ero indeciso tra aprire questa e questa qui alla fine ho optato per questa perché è quella più colorata e secondo me i bonbon qui di Willy Wonka hanno tutti colorati insomma è più bella secondo me come steelbook come resa cromatica come aspetto visivo è la più bella quindi è così molto carina e all'interno cada steelbook ha due dischi il disco 4K, 8HD e il disco Blu-ray diretto dall'ottimo regista di Paddington 1 e 2 Paul King però davvero film delizioso ragazzi straconsigliato a Wonka davvero un degno prequel del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato degli anni 70 grossomodo quello classico con Jim Wilde come vi dicevo prima film dura 116 minuti e ha anche alcuni contenuti speciali interessanti ce ne sono parecchi interessanti sono in totale 5 5 featurette che esplorano tutto e di più sulla lavorazione di Willy Wonka perché si concentra sulla lavorazione in generale sul regista la visione del regista le canzoni di Wonka perché questo è una sorta di musical e ci sono altre clip extra molto molto interessanti quindi questo qui è Wonka uscito in triplice edizione steelbook fatemi sapere nei commenti se l'avete comprato quale delle tre steelbook avete comprato o comunque qual è la vostra steel preferita poi passiamo a un'altra steelbook di un film che è uscito a marzo 2024 un film della DC Comics l'ultimo del filone diciamo Snyderverse mettiamola così l'ultimo della vecchia gestione pre James Gunn il film è Aquaman e il regno perduto sequel del film Aquaman con Jason Momoa il film non mi ha entusiasmato onestamente mi è piaciuto ma molto piatto non mi ha entusiasmato il primo film era carino una bella avventura marina un pochino originale con un personaggio un po' cazzuto caffone gradasso e ci stava benissimo Jason Momoa nella parte e questo secondo film non mi ha convinto del tutto l'ho trovato davvero molto molto piatto non è un brutto film ma non mi ha entusiasmato un impalpabile niente di niente di che nel senso davvero un po' miserino come lungometraggio quindi ho preso solamente questa steelbook qui giusto per collezionismo perché praticamente i film di Sil li ho tutti in stile o almeno comunque una steelbook e ho preferito questa qui alla fine mi sembrava la steelbook più carina The Flash con Ezra Miller quello mi era piaciuto parecchio e secondo me sarebbe stata la giusta conclusione per il ciclo diciamo Snyderverse dell'universo DC questo film potevano anche non non farlo più uscire ma ormai l'abbavano girato e tutto quindi hanno dovuto comunque farlo uscire ed è stato giustamente un meritato flop perché ve lo ripeto è un film senza né capo né coda nel senso che è impalpabile per me dimenticabilissimo niente di che Aquaman 2 viene proposto con svariati extra perché ci sono un bel po' di contenuti speciali ce ne sono parecchi diverse Fiat il film dura 124 minuti sono due dischi 4K Ultra HD più Blu-ray e viene proposto l'audio italiano in Dolby Atmos True HD sul disco 4K Ultra HD mentre sul Blu-ray l'audio la codifica audio viene proposta in DTS HD Master Audio 5.1 e questo qui è Aquaman and The Lost Kingdom passiamo ad alcuni amari ho recuperato recentemente su Amazon and a un prezzo davvero ridicolo un amari di un film di un lungometraggio italiano che mi ha divertito parecchio ed è qualunquemente film davvero divertente so benissimo che non si tratta di un capolavoro un po' volgarotto un po' provincialotto che mette in risalto tutti gli aspetti negativi dell'essere italiano però a me personalmente questa farsa questa commedia grottesca caricaturale in cui appunto Antonio Albanese interpreta Cettola Qualunque ha divertito tantissimo quindi per me è un buonissimo lungometraggio comico che prende in giro appunto l'Italia e l'italiano medium consigliatissimo Blu-ray pagato sui 7 euro mi pare l'ho segnalato sul mio gruppo Telegram e vi invito ad iscrivermi al mio gruppo Telegram dove io propongo le migliori offerte dei vari store on video principalmente Amazon perché è lo store più diffuso ma propongo anche offerte di DVD store IBS e così via questo qui l'ho preso da Amazon l'ho pagato pochissimo l'edizione non è nulla di eccelso il packaging è molto minimale è una semplice Amarai Blu-ray a disco singolo edizione targata 01 che adesso non distribuisce più prodotti on video e questo è qualunquemente edizione Blu-ray che contiene anche diversi extra come il backstage scene tagliate il videoclip rori sul set la campagna elettorale e tante altre cose film dura 97 minuti diretto a Giuliano Manfredonia con Antonio Albanese l'italiano viene proposto nella codifica DTS HD Master Audio e questo qui è qualunquemente poi ho recuperato l'ultima fatica l'ultimo lungometraggio di animazione dello studio Illumination quello di Cattivissimo Me e ho comprato questo film che si chiama Prendi il Volo l'ho comprato principalmente per i miei nipotini che loro adorano tutti i prodotti di animazione questo qui non erano riusciti a vederlo al cinema quindi li ho procurato in un video anche in questo caso un'edizione molto semplice una Marai Blu-ray per questo film che a loro è piaciuto tanto ma a me non mi ha fatto né caldo né freddo impalpabile anche questo lo studio ha realizzato lungometraggi nettamente più belli qua non c'è nulla di così epico nulla di così sorprendente di grande appeal e questa edizione qui Blu-ray secondo me è un grande pregio ovvero che ha oltre 60 minuti di contenuti speciali per un film che dura pochissimo 1 ora e 22 60 minuti di contenuti speciali e tanta tanta roba ragazzi contiene 3 mini film incentrati sui Minions gli omini gialli di casa Illumination quelli di Cattivissimo Me e come vi ho detto appunto ci sono tanti extra tanti bonus tanti contenuti speciali il disco Blu-ray ha come codifica audio italiano in Dolby Digital plus 7.1 e questo è prendi il volo film di animazione della Illumination poi ho recuperato un'edizione import in Blu-ray di un film italiano dei fratelli Taviano uno dei loro film più belli secondo me il film lo vedi a scuola alle superiori perché comunque è un film che parla di risorgimento italiano quindi è uno di quei lungometraggi che le professoresse di storia fanno vedere in quinta superiore quando appunto si parla della storia dell'Italia dell'unità d'Italia e poi per me è uno dei film più belli dei fratelli Taviani il film è Allosan Fan con Marcello Mastroianni questa qui è un'edizione targata Radiance una label UK che ultimamente ha realizzato ha proposto sul mercato un video internazionale diverse edizioni di alcuni lungometraggi italiani quindi edizioni Blu-ray in HD con audio italiano e sono quasi tutti film che in Italia non sono mai usciti sul supporto fisico HD in Blu-ray 1080p quindi mi raccomando spulciate e segnatevi questa label perché propone delle edizioni molto interessanti su alcuni film meritevoli della nostra cinematografia e Allosan Fan è uno di questi perché è un gran bel film segnatevelo poi ai più se amate le colonne sonore come il sottoscritto la traccia principale del film quella Rabbia e Tarantella se non dico cavolate è stata composta da Ennio Morricone e questa traccia è stata utilizzata da Quentin Tarantino per il film Bastardi senza gloria quindi sicuramente l'avrete sentita questa qui è l'edizione limited edition first press prima stampa un video mettiamola così su questo film su Allosan Fan della Radiance c'è infatti questa fascettina che indica che si tratta della prima edizione limited edition perché all'interno c'è un booklet che solamente la prima tiratura ha quindi se amate questi insertini qui comprate l'edizione il prima possibile perché una volta terminate le prime tirature le prime copie poi il prodotto un video verrà ristampato senza il booklet il film viene proposto in un'edizione Amarai Scannabocase quindi bianca non c'è il colore blu tipico dell'edizione Blu-ray in Amarai disco semplice Blu-ray si tratta della primissima volta che il film viene proposto in un'edizione Blu-ray il master di provenienza proviene da una scansione 2K del negativo originale in 35 mm quindi tanta roba dovrebbe essere stato restaurato come Dio comanda e all'interno oltre alla fascetta della First Press c'è anche la doppia copertina la cover reversibile io onestamente preferisco l'artwork originale quindi questo qui e terò questo la fascetta invece non la utilizzerò la inserirò all'interno della Amarai ma andiamo a vedere il booklet spillato stampato su carta liscia un po' gommosa perché soft touch al tocco è piacevole ovviamente si tratta di un'edizione UK inglese quindi il tutto è redatto in lingua inglese i booklet dell'edizione UK sono super curati c'è l'indice molto variegati ci si concentra sul cinema italiano sul cinema dei fratelli italiani la loro poetica sul neuralismo italiano sul risorgimento italiano e poi il tutto viene alternato a delle immagini di sottofondo e poi qui ci sono e ci sono tantissimi altri saggi su questo bellissimo lungometraggio dei fratelli italiani insomma un bel booklet un bel inserto molto molto curato variegato anche come temi come argomenti e qui c'è una particina sul transfer sul master 2K ecco qua c'è scritto Alonso Fan è stato restaurato in 2K da Surf Film e da istituto luce cinecità con il supporto di Radiance Film per il trasferimento in alta definizione quindi diciamo che è una sorta di loro esclusiva questa edizione Blu-ray del film Alonso Fan ovviamente come vi ho detto prima è un film italiano di produzione italiana quindi c'è l'audio italiano e l'audio italiano viene proposto nella codifica nella codifica mono fin del 1974 che quest'anno festeggia 50 anni di realizzazione un ottimo traguardo per questo stupendo film ovviamente i sottotitoli sono rimovibili non sono forzati sub e ci sono anche dei contenuti speciali interessanti non sono tantissimi gli extra ma ci sono e sono interessanti delle clip su Marcello Mastroianni e sulla fotografia del periodo quindi tanta tanta roba molto belle queste edizioni qui di questa Lab Radiance ne ho già diverse e sono ottime sotto ogni punto di vista molto belle curate gran belle edizioni queste qui della Lab Radiance tanta roba e Alonzan Fan super super consigliato come film poi proseguiamo con il film di John Woo uscito per Play on Pictures per Play on Pictures in Amarai 4K Ultra HD il film è Silent Night un film d'azione completamente muto o meglio ci sono i suoni le musiche la presa diretta ma praticamente un film non recitato muto adesso non mi ricordo esattamente il perché comunque c'è una scelta il lungometraggio è d'azione tipico action movie da regista di Hong Kong lungometraggio che ho preso principalmente per mio padre perché è grandissimo appassionato di questi film action questa è l'edizione Amarai 4K Ultra HD più Blu-ray doppio disco che è così composta Amarai nera con due dischi disco 4K e disco Blu-ray edizione molto molto semplice della Play on Pictures per questo film del maestro orientale John Woo non ci sono contenuti extra o meglio qui dietro non vengono riportati quindi deduco che non ci siano clip o bonus material l'audio italiano viene proposto in 5.1 di TSH di Master Audio sia per quanto riguarda il disco 4K Ultra HD e sia per quanto riguarda il disco Blu-ray il film dura 104 minuti e vi confermo che non ci sono extra c'è solamente il trailer e questo è Silent Night il silenzio della vendetta revenge action movie di John Woo poi al mercatino della mia città Mercatopoli ho recuperato questa edizione qui in DVD del musical Peter Pan recentemente sono andato a teatro per vederlo dal vivo questo superbo musical con le musiche di Edoardo Bennato ovviamente musical liberamente ispirato al libro fantasy d'avventura dello scrittore britannico Barry musical davvero fantastico le canzoni di Bennato sono superbe mi è piaciuto totalmente tanto che ho voluto vedere se era stato realizzato un DVD con la ripresa teatrale ebbene nel 2009 è stato realizzato questo DVD che è stato proposto per la collana il teatro di Repubblica Respresso e poi è uscita anche per un'altra edizione un video comunque io sono riuscito a recuperare questa usata a solo 5 euro al mercatopoli della mia città un'edizione un po' gangherata un po' scassata perché è un'edizione cartonata quindi è un po' tutta piena di bozze tutto ma volevo recuperarla a tutti i costi perché appunto il musical mi è piaciuto tantissimo un'edizione doppio disco il disco 1 contiene la ripresa teatrale del 2009 al teatro degli Archimboldi di Milano e il making of Peter Pan il musical mentre il disco 2 contiene diversi contenuti speciali backstage le interviste interviste al cast interviste esclusive a Edoardo Bennato insomma contiene degli extra molto molto interessanti l'edizione si apre così e qui dentro ci sono un po' messi alla cavola di cane i dischi disco 2 e poi c'è il disco 1 e poi c'è un librettino rossurato con alcune cose molto interessanti il cast ternico il cast artistico delle immagini con le varie scenografie insomma un bellissimo booklet stampato su carta di una bella grammatura ci sono le canzoni alcune interviste è molto carina come edizione gli slot per i dischi fanno davvero pena perché praticamente non esistono i dischi sono un po' buttati al suo interno infatti sono un po' rigati rovinati e la qualità della ripresa è davvero infima si vede davvero da schifo questo dvd davvero una ciofeca assoluta però l'ho preso appunto per questo motivo qui l'ho visto il teatro e volevo averlo così giusto per rivedermelo in futuro anche perché comunque il cast è cambiato è diverso un attimino il musical è la nuova edizione che ho visto io questa è quella vecchia del 2009 però insomma volevo qualcosa fisico da tenere nella collezione da poter rivedere alla fine per 5 euro l'ho comprata ed eccola qua poi ho recuperato il film anime Paprika il film secondo me più belli del compianto regista giapponese Satoshi Kon e Paprika è un film d'animazione molto molto bello che secondo me e secondo molti ha ispirato il regista Christopher Nolan alla realizzazione del suo Inception perché il film di Nolan ricorda molto questo lungometraggio qui e Paprika è stato realizzato molti molti anni prima fin davvero all'avanguardia per l'epoca visionario futuristico è un film davvero particolarissimo in cui realtà e finzione si mescolano e praticamente la protagonista Paprika è una sorta di investigatrice virtuale adesso quindi c'è un'entità che vuole divorare o comunque vuole creare instabilità in questo mondo dei sogni e deve intervenire a risolvere la situazione ci sono tante scene caotiche belle colorate film super consigliato Paprika sognando un sogno tanta tanta roba e la steelbook è magnifica davvero magnifica è l'artwork classico l'artwork che richiama il poster originale dell'epoca e esce per la prima volta in 4K Ultra HD questo superbo film del regista Satoshi Kon davvero tanta tanta roba se non l'avete mai visto questo lungometraggio guardatelo perché a mio avviso è uno dei film di animazione giapponese più belli di sempre non ne rimane non ve ne pentirete superbo come film steelbook poi fantastica davvero cioè guardate guardate che bella come steelbook super super artwork e all'interno teniamo il disco 4K Ultra HD più il disco Blu-ray questa è un'edizione targata Eagle Pictures ma i diritti appartengono alla Sony Columbia l'artwork interno guardate che bello tanta tanta roba e qua frontalmente si evince tutta la tutto il disordine visivo di questo lungometraggio davvero c'è la parata di questa entità che fa gocita tutto molto caotica spettacolare visivamente colorata tanta roba come film ve lo garantisco è una sorta di thriller dove appunto realtà e finizione si mescolano però è un thriller atipico molto giapponese con una sua poesia disordinato eccentrico particolarissimo come film super consigliato andiamo a vedere un attimo velocemente le caratteristiche qui del flyer ci sono tantissimi extra praticamente vengono confermati tutti gli extra vengono riproposti tutti gli extra delle precedenti edizioni quindi super edizione consigliata anche da questo punto di vista perché gli extra rimangono intatti non si perde via nulla quindi ce ne sono parecchi e c'è il disco 4k ultra hd quindi nuovissimo master nuovissimo formato e tanta tanta qualità la codifica audio proposta è 5.1 dolby digital sia per quanto riguarda il disco 4k che per quanto riguarda il supporto fisico blu ray 1080p sempre codifica 5.1 dolby digital adesso arriviamo all'ultimo prodotto un video che ho recuperato a marzo 2024 e dal film di animazione Paprika rimaniamo più o meno nel mondo giapponese perché vi propongo il Godzilla di film statunitense del 1998 con Matthew Broderick nei panni dell'uomo dei vermi che deve indagare con Jean Reno sulla polizione a Manhattan del mitico lucertolone Godzilla questa qui è la prima incursione americana di questa icona giapponese Godzilla figlio dell'atomo film che a me piace sempre ragazzi io sono cresciuto con questo film o meglio mi sono approcciato al mondo di questo lucertolone nipponico Godzilla con questo lungometraggio perché è stato il primo film che ho visto su Godzilla e ho un bel ricordo lo vedo sempre volentieri è un film bello tamarro non riuscito al 100% ma per chi è cresciuto negli anni 90 nei primi anni 2000 questo qui è un must scene è un piccolo non dico cal però comunque è un film godibilissimo una bella avventura si vede molto volentieri o meglio io ce l'ho cresciuto con questo film è un bel ricordo e lo vedo sempre volentieri questo film Godzilla questa qui è una nuovissima edizione 4K Ultra HD in edizione Steelbook perché il film era già stato edito in 4K Ultra HD ed era già uscito in una precedente edizione Amarai edizione Amarai che però non aveva all'interno il Dolby Vision questa Steelbook qui ha in aggiunta il Dolby Vision poi per il resto rimane tutto uguale gli extra quei proposti sono sul disco Blu-ray e sono sempre quelli non c'è nulla di nuovo l'unica novità sta appunto nel packaging in questo caso il packaging è edizione metallica la Steelbook e il disco all'interno è diverso ha una sorta di upgrade perché ha il Dolby Vision e l'edizione precedente in Amarai non ce l'aveva infatti io possedevo l'edizione Amarai l'ho venduta e ho comprato questa perché appunto colleziono le Steelbook e questa qui ha il Dolby Vision poi cioè ragazzi per un appassionato come me che è cresciuto con questo film di Godzilla cioè come dire di no a questo artwork in cui il nostro lucertolone svetta in tutto il suo splendore cioè guardate che bella la Steel tanta roba non ho potuto dire di no Steelbook magnifica superba all'interno appunto il disco 4K e il disco Blu-ray poi logico che non è un capolavoro è un film tamarro non ho riuscito del tutto ma ne ho visti di ben peggiori quindi per me è un buon film degli anni 90 diretto dal regista che in quegli anni li andava un casino perché ha diretto Independence Day di Roland andiamo a vedere qui il flyer i contenuti speciali come vi ho detto prima sono sul disco Blu-ray e sono rimasti invariati ci sono tutti praticamente non si perde nulla c'è il Dolby Vision e c'è la codifica audio italiano 5.1 DTS HD Master Audio sul disco 4K e sul disco Blu-ray 1080p e questo qui è Godzilla ultimo mio acquisto del mese di marzo fatemi sapere se avete comprato anche voi questi film se vi sono piaciuti se vi è piaciuto lo spacchettamento se avete in programma anche voi di comprare in sostanza come vi dico sempre cerchiamo di instaurare una sorta di dialogo commentate scriviamoci sentiamoci e cerchiamo un attimino di aprire un dibattito sul cinema cuore pulsante della nostra passione a un video io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento tra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto